L'approccio a questa partita? Non era facile, anche se mentalmente lo sapevamo che era una partita difficile. Poi loro sono stati bravi a trovare i gol all'inizio e quello ci ha condizionato un po'. Poi siamo stati un po' più bravi nel secondo tempo, però l'importante è che abbiamo raggiunto la qualificazione. Spalletti ha detto che ho sbagliato le scelte, c'è la sensazione che avete fallito un'occasione, voi che hai giocato un pochino di meno? Sicuramente non abbiamo fatto la nostra migliore partita, però sicuramente mi sarà la persona più adatta a rispondere a questo tipo di domande. Tu come ti senti dal punto di vista fisico? No, sto meglio, non è facile, però continuo a lavorare e a dare il mio massimo per recuperare la forma migliore. Inter, Lazio, Napoli, che cosa vi aspettate da queste delle partite? Sono partite sicuramente difficili, però noi dobbiamo andare a giocare contro qualsiasi squadra sapendo di avere le possibilità di battere chiunque. Facciamo l'ultima? Grazie.